Buongiorno e ben trovati In questa edizione di Mattino 6, mercoledì 9 maggio 2018, sfogliamo tra poco i quotidiani locali, vedremo le prime pagine delle testate principali nazionali e rivedremo anche alcuni dei servizi realizzati ieri dal TG6. Iniziamo subito con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani locali e siamo subito sul centro, edizione di Pescara, con questa apertura, riviera chiusa fino alla Madonnina. Oggi stoppa le auto su altri 800 metri, è la giornata più difficile per il traffico. Poi sotto la testata gli sviluppi del Consiglio regionale di ieri, in campo il governo di Mattarella e D'Alfonso rinuncerà al Senato. Poi Carrara, presidente del Parco, l'Orso Marsicano rischia l'estinzione. Gli esperti, influenza è finita, l'epidemia dei record. Poi a centro pagina, la fotonotizia, i volontari del soccorso senza rimborsi, si chiude, appello alla ASL per avviare la trattativa. Poi alcuni richiami a Pescara, doppi incarichi, la finanza indaga su architettura. A Montesivano, processo Eco-M, per l'ex sindaco c'è la prescrizione. E poi sul fronte della prossima gara di Serie B, tra Pescara e Ascoli, verso il derby, tutta la curva ai tifosi ascolani. Poi ancora la cronaca, la camorra fa affari nel fucino, droga coltivata tra le patate, otto persone fermate dal distrettuale antimafia. E quindi in basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, non vi piace il vino, siete uomini noiosi. Andiamo a vedere ora l'edizione aquilana del centro, con l'apertura dedicata all'operazione dei carabinieri di Ieri, carabinieri della provincia dell'Aquila. La camorra fa affari con la droga, scoperta una coltivazione di marijuana nel fucino, otto le persone arrestate. Poi la fotonotizia, comune dell'Aquila, Forza Italia si sfalda, doppie dimissioni e centro-destra in fibrillazione. Poi a Pacentro, strade chiuse, sfila la rabbia dei sindaci, sempre tornando a Marsica, a Trasacco, conti svuotati online, preso un marsicano. Poi all'Aquila, Sacchetti bio, fuori legge, scatta l'esposto. In basso leggiamo prof e doppi lavori, danno milionario, nuovi particolari per gli 11 casi sospetti, trovati dalla finanza all'Ateneo. Siamo all'edizione terramana del centro, ecco l'apertura. L'esplosivo era nascosto nei taralli, il capo della banda che faceva scoppiare i Bancomat lo comprava su internet, la banda della Marmotta. E poi a centropagina per la politica a Teramo, da Melarangelo a Verna, no al PD. Sbraccia con la Lega, chi entra e chi esce dalle liste. E poi ancora, altri richiami di cronaca. Campli, minacce di morte alla moglie, torna in carcere. A Silvi, malore a scuola, soccorsa alunna di 13 anni. E per lo sport, caso Sant'Arcangelo, Teramo Calcio, l'undici, il verdetto che vale la salvezza. E andiamo a vedere ora l'edizione di Chieti del centro. Il titolo d'apertura, scontro per la procura, vince testa. Conteso l'incarico da capo di Chieti, il Tar del Lazio boccia i ricorsi dei concorrenti. E poi la fotonotizia, sit-in di protesta all'Aquila per salvare l'ospedale. I manifestanti da guardia grele. E poi ancora Chieti, carenza di fondi. Marucino, cancellata la prima opera. A San Salvo, Pilkington, dialogo aperto sugli esuberi. E poi sempre a San Salvo, Trignina, la frutta conquista anche l'Europa. Trigno, la frutta conquista anche l'Europa. E siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo. L'apertura dedicata al Consiglio regionale di ieri. Regione, D'Alfonso non decade. Respinta dal Consiglio la questione dell'incompatibilità. Ora è il probabile ritorno anticipato alle urne ad aprire nuovi scenari. Seduta rovente, decisivi voti di Governatore e di Pangrazio. E poi sotto la testata, Poltronissime, Procura Contesa, Chieti, testa sì, aggiudica il round decisivo. Calcio di Serie B, Pescara, occhio all'ex Cosmi, Brugman stop per l'influenza. E poi sempre sotto la testata, Teramo, un anno fa l'incidente, via il cloro, ozono nell'acqua. Resta il nodo della sicurezza, l'annuncio della Ruzzoretti nella ricorrenza dell'allarme causato dai laboratori del Gansasso. L'osservatorio manca una ricostruzione. E poi ancora di spalla l'Europa Unita, quell'idea vincente di 68 anni fa. L'intuizione di Schumann è il cammino complesso dell'Unione Europea. Convegno all'Università d'Annunzio. In taglio medio la fotonotizia sale la febbre per il Giro d'Italia. Carovana rosa in Abruzzo, in particolare a Penne, già si respira l'atmosfera legata al Giro d'Italia. Con le vetrine colorate di rosa. E poi ancora, anziano si sposa in segreto, spariti soldi e case. A Giulianova la mala scoperta dei parenti, in fumo 300 mila euro e due immobili. E poi ancora un paio di richiami a Vezzano, la marijuana coltivata dalla Camorra. E poi a Pescara da parcheggio a Iperfumata nera. Andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo d'apertura, incastrati da un brandello di giornale. Ecco come i carabinieri hanno arrestato la banda della Marmotta. Uno è ancora ricercato. E poi una serie di richiami sotto la testata. Torna a Teramo Comics, al campus universitario. Dal Badriati Capiccioni rinuncia al bis e attacca il centrodestra. A Teramo, il caso Via Migli, Renzo Di Sabatino, il presidente della provincia, verso la proroga alla provincia. E poi ancora la fotonotizia. Ad Alfonso Scomoda, Mazzini e Garibaldi, il governatore si espone al direggio dei 5 Stelle. Poi di Spalla, acqua sicura, ozono al posto del cloro per bere meglio e più sicuro. Incidente nei laboratori, tutto uguale dopo un anno. E poi ancora in basso, il 2 giugno a Rimini, Maxi Reduno dei fan di Ivan Graziani. Teramo perde un'altra occasione. Lasciamo i quotidiani locali e andiamo a sfogliare ora le prime nazionali. Siamo sul Corriere della Sera, che apre così con la politica. Berlusconi non cede, ma si tratta. Mattarella, oggi il nome per il governo neutrale, io arbitro imparziale. I giocatori siano corretti. Forza Italia nega l'appoggio esterno a un asse formato da Lega e 5 Stelle. Il 19 maggio, assemblea nazionale del PD. E poi la fotonotizia sotto la testata. Trump rompe con Teheran, finanzia il terrore. L'accordo va rinegoziato. Siamo alla prima pagina di Repubblica. Ecco, l'apertura. Lega 5 Stelle, pressing su Berlusconi. Renzi, se si vota. Gentiloni leader. Forza Italia divisa sull'appoggio esterno. No del Cavaliere. Mattarella pensa al ticket. Belloni, Rossi. E poi, anche in questo caso, la fotonotizia con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump straccia il patto con l'Iran via a dure sanzioni. E ora la stampa che apre appunto con questa vicenda. Trump straccia il patto con l'Iran. Finanzia il terrore. La popolazione si ribelli al regime. Tornano le sanzioni. Addio all'accordo sul nucleare. Washington all'Europa. Interrompete gli affari. Venti di guerra sul Golfo. Poi la fotonotizia. Ultimo assedio. Lega 5 Stelle a Berlusconi. Mattarella potrebbe dare oggi l'incarico per il governo di servizio. Renzi lancia Gentiloni. Ieri al Quirinale il capo dello Stato ha ricevuto i capitani di Juventus e Milan che questa sera all'Olimpico si contenderanno la Coppa Italia. Andiamo sul sole 24 ore. Questa è la prima pagina. L'apertura. Il rischio voto mette in allerta i mercati. Rilancio Lega 5 Stelle sul governo. Berlusconi tratta. Mattarella va avanti. Boccia serve disponibilità. Lo stallo politico si riflette su borsa e titoli. Milano perde l'1,64%. Spread a quota 130. Poi vediamo la situazione in Medio Oriente. Iran lo strappo di Trump fuori dall'intesa sul nucleare. L'Unione Europea a salvare l'accordo. Rani pronti ad arricchire l'uranio. E poi ancora in basso. Intesa nei primi tre mesi profitti oltre il miliardo. Utile in crescita del 39% grazie al Wealth Management. Giù i costi. Proseguiamo e siamo sul fatto quotidiano. Ecco il titolo d'apertura. Piano Mattarella, IVA, giustizia, nomine Rai. Non esiste. Governo neutrale. Berlusconi non cede. Pronto l'incarico al Premier del Colle. E poi criminalità. La neve sotto al Duomo. Milano. Servizio pronto coca. Il rider consegna in mezz'ora. Sotto la testata. Trump rompe con Teheran. Israele è in stato di guerra. Gli Stati Uniti annullano l'accordo raggiunto nel 2015 da Obama. Proseguiamo e siamo sul manifesto che apre così la guerra persiana. L'Iran mente. Trump citando le false prove di Netanyahu straccia l'accordo sul nucleare. Faticosamente raggiunto da Obama ed Europa e minaccia di sanzioni. Chi aiuterà Teheran? L'Unione Europea stavolta dice no. Ruani ora l'intesa è a 5 ma intanto si prepara al peggio. E poi in taglio medio braccio di ferro prima dell'incarico. Lega in pressing su Berlusconi. Ma il Cavaliere non cede. Siamo alla prima pagina del messaggero. Ecco qui. Ultima trattativa sul governo. Ma Berlusconi resiste al pressing. Il Cavaliere dice no all'appoggio esterno a Lega e 5 Stelle. Senza intesa Mattarella pronto a incaricare Premier una donna. E poi ci sono due punti di vista. In basso legge elettorale evitare il bis della paralisi dopo le urne. Poi l'intervista al leader della Lega Salvini. Il mandato doveva darlo a me. Non rompo con Silvio. E poi la fotonotizia. Roma brucia. Esplode bus dell'Atac. Terrore in centro. Danni e feriti. Rischio incolumità pubblica. Tutto questo appunto è avvenuto ieri. Vedete questa foto con l'autobus in fiamme in pieno centro a Roma. Avanti ancora. Siamo sul tempo. Ecco l'apertura. Voto a luglio. 12 milioni in vacanza. Allarme a stenzione. Secondo Confuturismo in molti hanno già prenotato e pagato le ferie. Quanti lasceranno l'ombrellone per la cabina? A meno che non passi il governo. Lega 5 Stelle. E poi la fotonotizia. Anche in questo caso dedicato all'autobus. che ha bruciato ieri in pieno centro a Roma. Ritorno di fiamma. Incendio sul bus a Via del Tritone. Un altro a Ostia con la Raggi. Ogni mese vanno a fuoco due mezzi. L'autista eroe. Così ho salvato quei passeggeri. Andiamo ora sulla prima pagina di Libero. Ecco l'apertura. Capaci di tutto. Buoni a nulla. Le forze politiche sono prigioniere di loro stesse. C'è chi vuol votare subito. Pur sapendo che dalle urne uscirebbe un risultato quasi identico a quello del 5 marzo. Ma i neoeletti non hanno interesse a sciogliere le camere. Si battono in difesa dei seggi. Caos senza precedenti. E poi la fotonotizia. I dolori del vecchio Mattarella. L'uomo del Colle si contorce nella confusione. E poi i punti di vista espressi in basso. Da una parte Paolo Becchi e Giuseppe Palma. Il suo esecutivo neutrale offende la Costituzione. E il punto di vista di Vittorio Feltri. Sono i partiti. Non lui. A ignorare la democrazia. Siamo alla prima pagina della verità. Il Presidente prendi tempo. Tutte le mosse di Mattarella per impedire il voto a luglio. Il Capo dello Stato ha stiracchiato le consultazioni con l'intento di rosolare Lega e 5 Stelle. Chiudere le finestre elettorali. Neppure oggi darà l'incarico per il Governo. L'obiettivo è rinviare le urne fino alla primavera del 2019. La fotonotizia con il noto conduttore Fabio Fazio. 8 milioni di euro all'anno per non fare domande. Poi in taglio medio lo sciopero. Cancella 750 voli. Una petizione contro i sindacati. Ryanair che guida la rivolta. Non è un esempio. Ma le sigle sono fuori dal tempo. E ora l'avvenire. Ecco qui l'apertura. Salto nel voto. Parti sociali contro l'ipotesi di elezioni già a luglio. A vuoto. Nuovo tentativo Lega e 5 Stelle. Oggi l'incarico per Furlan della Cisle Sangali di Confcommercio. Rossini, Achili e Giannelli presidi. Serve un Governo che garantisca stabilità e sviluppo. E poi sotto la testata, naufraghi riportati in Libia. L'Italia denunciata alla CEDU. Ricorso di 17 nigeriani che hanno perso parenti o sono stati poi torturati. Andiamo a chiudere con il mattino. L'apertura. Berlusconi resiste. Una donna premier. Ultimo pressing della Lega per il passo di rato di Forza Italia. Il Cavaliere escluso. L'appoggio esterno a 5 Stelle. Governo neutrale Mattarella oggi dà l'incarico per Palazzo Chigi, Impol, Belloni e Cartabia. I ministri saranno tutti tecnici. Lasciamo la rassegna delle prime pagine nazionali. Torniamo ora sui quotidiani locali. Ripartiamo dal centro. Pagina 2 e pagina 3 con la cronaca. La Camorra fa affari con la droga coltivata nel Fucino 8. Le persone fermate dalla distrettuale antimafia. L'inchiesta dopo l'arresto di un agricoltore marsicano. L'organizzazione aveva tentato di allestire una coltivazione anche nella zona di Capistrello. Ma il progetto era fallito. Le piante erano state date alle fiamme. Poi ancora il retroscena delle indagini e le intercettazioni. Spaventati dalla proposta di legge per rendere legale la marijuana. Nella Marsica pensavano di agire indisturbati e alludevano all'assenza di controlli. Qui è una pace. La donna di Luco indagata si prodiga per chiedere al clan di pagare l'avvocato dopo il fermo del compagno. Qui ci sono appunto i volti delle persone che sono state arrestate. Le otto persone arrestate. Poi ancora banda della Magliana e Casalesi. Ecco tutti i casi di infiltrazione. Il colonnello dei carabinieri, Servedio, lancia l'allarme. Una regione da colonizzare per la criminalità per i carabinieri dell'Aquila. Il pericolo malavita resta alto. Ma qui la legge viene rispettata e fatta rispettare. I controlli sono assidui. Andiamo avanti. Siamo a pagina 13. Siamo al Consiglio regionale. La seduta particolarmente rovente di ieri. D'Alfonso ha deciso. Rinuncerà al Senato di Pangrazio e l'EU. Lo soccorrono dopo il tradimento di tre consiglieri. Vince per un voto 16 a 15. E poi dribbla le opposizioni. E poi ancora in Consiglio si alza il sipario. Mazzine Garibaldi in aula. Ecco lo show dei 5 Stelle. Allora, vediamo il servizio del Tg6. I numeri non sono stati quelli che la maggioranza di centrosinistra si aspettava. Alla fine il no all'incompatibilità del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso è arrivato sì ma per un solo voto di scarto. 16 a 15. Le trattative con i dissidenti della maggioranza di Matteo, Gerosolimo e Olivieri alla fine non hanno dato gli esiti sperati e come annunciato più volte dall'ex assessore Donato Di Matteo c'è stato il voto favorevole alla mozione di incompatibilità a cui si è aggiunto quello del consigliere Leandro Bracco, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Quindi, se non ci fossero stati voti a favore di Giorgio D'Ignazio da poco entrato a far parte della giunta con la delega al turismo dello stesso D'Alfonso e del presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio criticato per la sua mancata astensione la maggioranza sarebbe andata sotto su un voto fondamentale soprattutto dal punto di vista del segnale politico da inviare all'opinione pubblica abruzzese. D'Alfonso nel suo intervento in aula dopo il voto ha ribadito che non esistendo nei fatti il Senato perché non si è ancora pervenuti ad un governo non c'è motivo di troncare in anticipo la consigliatura regionale. D'Alfonso ha anche ricordato, come fatto più volte prima di oggi di voler completare per quanto possibile il lavoro messo in campo fino a questo momento. La battaglia tra D'Alfonso e i suoi oppositori comunque proseguirà e non è certo finita con il voto odierno. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un ricorso al Tar contro la doppia carica del presidente e del senatore certi che dai giudici amministrativi arriverà la spallata decisiva che riporterà gli abruzzesi al voto già in autunno. Voto che chiedono a gran voce anche i consiglieri di Forza Italia che prima della seduta del Consiglio odierno hanno tenuto una conferenza stampa per ribadire la necessità delle dimissioni di D'Alfonso. Continuiamo ad affermare che il presidente della regione Abruzzo è in una causa di evidente incompatibilità che deve dimettersi, ovvero optare tra quale dei due ruoli vuole ricoprire se quello da senatore in cui è già proclamato dal 23 marzo o continuare a mantenere l'impegno che gli abruzzesi ha assunto quattro anni circa fa da presidente della regione. Continua a tergiversare perché deve mantenere la presa sul potere regionale tra l'altro allargando il dissenso che c'è sull'operato della regione Abruzzo ma soprattutto tenendo bloccata la rinascita della regione Abruzzo che ormai per il centro-sinistra non ha più una maggioranza politica e di conseguenza il Consiglio è già pienamente operativo e soprattutto non ha più la possibilità di fare le cose che agli abruzzesi servono. Grazie a tutti. Nel parco vivono circa 50 plantigradi e non sono pericolosi per l'uomo dei danni provocati agli altri animali come per esempio pecore aggredite dai lupi e alle coltivazioni agricole l'ente si occupa ogni giorno e istruisce le varie pratiche. Nel 2017 abbiamo risarcito allevatori e agricoltori per una cifra totale di circa 300 mila euro poi forniamo le recinzioni, facciamo un continuo informazione, i pagamenti sono rapidi. in basso, vietato fotografare e filmare gli orsi, incontri ravvicinati nella Marsica, quell'ordinanza del sindaco di Colle Longo. Avanti ancora e siamo alle pagine di Pescara con la protesta ai volontari del soccorso. troppi tagli, così si chiude. I rimborsi previsti dall'Astra saranno ridotti del 40%, impossibile coprire le spese. Insorgono 12 associazioni, il bando va sospeso per aprire un nuovo tavolo di confronto. Poi ancora sul fronte della viabilità, oggi riviera chiusa fino alla Madonnina, il comune blocca le auto su altri 800 metri di lungomare, il tratto che va da Via Lemuzzi a Via Tassoni aprirà domani ed è dunque il giorno più difficile per il traffico a Pescara. Poi mare, valori record a Fosso, Valle Lunga, le analisi indicano inquinamento sei volte oltre i limiti di sicurezza, già scattati i divieti di balneazione. A Via Bologna, sempre a Pescara, negozianti in rivolta per il supermarket, petizioni con 55 firme contro il nuovo sito della grande distribuzione. Va deserto il Consiglio chiamato a votare il progetto. E poi ancora novità sui rifiuti, differenziata in spiaggia, un contributo ai balneatori. Ogni stabilimento riceverà 300 euro dalla società attiva per i nuovi cassonetti. Le alghe saranno raccolte dagli operatori ecologici con un mezzo speciale. Avanti ancora, siamo all'indagine della finanza. Doppi incarichi nel mirino ai docenti di architettura. Il direttore Fusero, giusto indagare, ma c'è troppa diffidenza verso gli Atenei. In Abruzzo, coinvolti in 21. L'inchiesta riguarda a livello nazionale 411 prof che hanno mantenuto il lavoro all'università e una attività privata. All'annunzio le fiamme gialle hanno accertato almeno due casi di doppio lavoro senza avere richiesto il placet del rettore. Vediamo il servizio. L'Università dell'Aquila ha ricevuto 15 richieste di informazioni dalla Guardia di Finanza in merito all'inchiesta sui doppi incarichi di docenti universitari che coinvolge anche l'Abruzzo. A confermarlo sono stati il direttore generale Pietro Di Benedetto e la rettrice Inverardi che però hanno ribadito che ad oggi non sia notizia di avvisi di garanzia o convocazioni da parte della Corte dei Conti e soprattutto non si sa se i docenti per i quali sono state chieste informazioni siano poi finiti nell'inchiesta. L'inchiesta è clamorosa ed è partita dalla Corte dei Conti sui docenti universitari con il doppio lavoro. Dei 411 coinvolti in Italia, 21 sarebbero abruzzesi. A confermarle in una nota c'è anche il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca che sulla vicenda apronta un'interrogazione parlamentare relativi accessi agli atti. Sono ignoti al momento i nomi dei docenti abruzzesi. A far scattare l'inchiesta è stata la Corte dei Conti a seguito di verifiche delle partite IVA dei docenti universitari 411 per ora, i professori nel merino della finanza di tutta Italia. A 172 di loro sono già stati chiesti risarcimenti per 42 milioni di euro accusati di aver violato l'esclusività del rapporto di lavoro sottoscritto con la pubblica amministrazione sottraendo ore all'insegnamento per dedicarsi ad un secondo lavoro. Un'inchiesta che non ha risparmiato neanche l'Abruzzo 21 docenti universitari considerati con doppio lavoro e che hanno causato, secondo Vacca, un danno erariale allo Stato. Una questione che il Movimento 5 Stelle in Abruzzo aveva già evidenziato nella scorsa legislatura quando il deputato Vacca aveva presentato atti formali in cui si evidenziavano presunte violazioni delle norme. In Abruzzo ci furono interrogazioni per il caso del professor Nicola Mattoscio docente e membro della Saga, sul rettore di Teramo professor Luciano D'Amico e presidente della TUA e sul professor Stefano Civitare-Tese, consigliere di amministrazione dell'università e assessore nel comune di Pescara. A scanso di equivoci, Vacca non afferma in nessun modo comunque che i docenti cittadini siano coinvolti nell'inchiesta. Alla luce delle indagini, ha detto Vacca, si presenterà in Parlamento un'interrogazione per fare chiarezza sulla situazione in Italia e in Abruzzo. Per quanto riguarda l'Ateneo Aquilano, i 15 docenti avrebbero comunque contratti part-time da quello che si sa e dunque non rientrerebbero neppure nelle violazioni di legge. Sicuramente l'inchiesta andrà avanti e nei prossimi giorni si avrà modo di saperne di più. Un'inchiesta partita mesi fa. Torniamo sul centro a Pescara, blackout da un anno, commercianti infuriati. A Piazza Gariballi, lettera di protesta al sindaco, da residenti e negozianti, le continue interruzioni di corrente ci danneggiano e l'Enel non ci ascolta. E poi di spalla tumori la carovana della prevenzione in Piazza Salotto, sabato la manifestazione Pescara Mare. Proseguiamo e siamo alle pagine di Montesilvano. Eco M, tempo scaduto, processo in prescrizione. La procura costretta a chiedere il non doversi procedere. Sentenza il 23 ottobre. L'ex sindaco Cordoma, il consigliere regionale Sospiri, i principali imputati. L'inchiesta di dieci anni fa, il fascicolo fu aperto dal PM Mantini dopo un esposto su presunte irregolarità, ma gli anni sono trascorsi senza un verdetto. La mobile chiese in vano per due volte gli arresti per Sospiri e Cordoma che per l'accusa avrebbero ricevuto soldi dalla Deco. Avanti ancora, Villa Acerbo, siamo a Spoltore, Villa Acerbo torna all'antico splendore e a ospitare anziani, quasi ultimati lavori di ristrutturazione a Caprara. Sopra il luogo del sindaco, ecco il risultato del nostro impegno. Poi ancora, a Francavilla, piscina comunale all'asta, prezzo base 513 mila euro. Gli interessati sono chiamati a presentare le offerte entro il 4 giugno. La prima arrivata superava i 3 milioni. Questo è il terzo tentativo di vendita. E poi sempre a Francavilla, bandiera blu, negata un danno al turismo Ascom e ITF preoccupati. Il consigliere Damario una brutta sconfitta per Luciani. A Penne, fiori, palloncini e bici nei negozi di Penne. Il nostro sogno rosa continua il viaggio nel centro vestino che ospiterà la decima tappa, uniti per puntare sulla promozione di questo bellissimo borgo. Pagine di Chieti con l'incarico conteso. Scontro per la procura. Testa vince e resta capo. Il Tar del Lazio boccia i ricorsi dei magistrati di Campobasso e Ascoli Piceno. La sentenza a esperienza contro la mafia può guidare al meglio l'ufficio. E poi in basso avvocati a convegno sulla privacy. Giovani legali e commerciaristi incontrano Valentini per esaminare le nuove regole. E poi ancora a rischio il bicentenario del teatro Marrucino senza fondi cancellata la prima opera finanziamenti della regione in ritardo quest'estate niente tornando alla civitella lettera di D'Alfonso annunciava i soldi da nove mesi Sicari il presidente della deputazione teatrale potrebbe dunque dimettersi. Avanti ancora siamo a Ortona il dragaggio del porto torna alla prima impresa sentenza del consiglio di stato riassegna l'appalto alla dragaggi Castiglione siamo di nuovo al punto di partenza Cicotelli troppi ritardi pagine di Teramo verso le elezioni in comune PD Melarangelo e Verna rinunciano a candidarsi i due nomi forti dei democratici non entrano in lista sbraccia va con la Lega Micheli ci sarà per Fratelli d'Italia che schiera anche Tiberi Corona con Oltre e poi ancora siamo sempre a Teramo dopo che è stata sgominata la banda soprannominata della Marmotta l'esplosivo nascosto tra i taralli pugliesi le rivelazioni della ex moglie del capo dell'organizzazione veniva acquistato su internet e trasportato in mezzo ai dolci l'ordinanza del giudice con cui abbiamo scoperto un'associazione di portata criminale più ampia di quanto possa trasparire dagli atti fin qui raccolti siamo a Silvi soccorsa a scuola alunna di 13 anni è svenuta in aula alla media Pascoli la sorella maggiore accusa vittima di bullismo ma la preside smentisce poi Silvi al voto polemiche sul tema delle alleanze del vecchio contro il gruppo presieduto da Pelusi andiamo a chiudere con le pagine aquilane qui siamo alle fibrillazioni all'interno del consiglio comunale caos nel centrodestra Forza Italia si sfalda si dimette il capogruppo e la De Blasis lascia nel duro confronto della maggioranza a Palazzo Fibioni ieri pomeriggio Junior Silveri prima vittima la presidente della terza commissione apre il misto dove potrebbero confluire altri dissidenti il sindaco Biondi aspetta l'anatra zoppa e le decisioni del deputato d'Eramo ma potrebbe candidarsi in regione e poi ancora la rivolta parte da Pacentro strade chiuse sfila la rabbia dei sindaci occupata con un centineio di persone la 487 che sale a Passo San Leonardo oggi sopralluogo di provincia e regione noi ci fermiamo chiudiamo qui la prima parte di mattino 6 spazio alle previsioni del tempo poi la pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte di nuovo buongiorno seconda parte di mattino 6 con il messaggero Abruzzo e con la pagina della politica il rebus del doppio incarico d'Alfonso la spunta ora l'incognita e la legislatura breve il consiglio regionale respinge la questione di incompatibilità alla fine sono risultati decisivi voti di governatore e presidente dell'aula lo scioglimento anticipato delle camere apre nuovi scenari la ricandidatura è la prima opzione seduta infuocata tra le proteste del Movimento 5 Stelle e la dedica al veleno di Donato Di Matteo l'ira delle opposizioni contro Di Pangrazio poi ancora con le pagine siamo sulle pagine di Pescara a vuoto il consiglio sul supermarket salta la discussione sul cambio di destinazione d'uso per il parcheggio di via Bologna in deroga al piano regolatore Alessandrini 5 Stelle pareri favorevoli fondati su un errore i commercianti della zona petizione e richiesta di confronto e poi leggiamo tagli ai rimborsi la rivolta del soccorso Croce Rossa Misericordia e altre onlus chiedono un tavolo di confronto per rivedere le tariffe ma la ASL non aspetta il servizio va garantito vediamo a tal proposito il servizio noi sollecitiamo le pubbliche amministrazioni in questo caso regione da ASL ad allineare i tempi perché la ASL ha adottato una procedura a nostro modo di vedere corretta in termini di procedura per l'affidamento dei servizi c'è una manifestazione di interesse tuttavia dovendo adattare delle tariffe che sono assolutamente insostenibili che sono tariffe regionali ormai vecchie non più adeguate e che non ci permetterebbero di svolgere il servizio alla qualità richiesta stiamo parlando di una riduzione del 50% rispetto ai costi che oggi noi e al rimborso chiediamo e quindi otteniamo dall'ASL che sono già molto più bassi rispetto a quelli di normalità noi sui costi di oggi abbiamo già delle perdite perdite che vengono colmate con le altre attività che le associazioni fanno lo facciamo per il bene del territorio ma pensare di poter fare gli stessi servizi al 50% del costo che oggi sosteniamo è impensabile rimettere a fine anno avere delle perdite associative di 50, 100 200 mila euro due riflessioni veloci la prima con l'emergenialità che le associazioni di volontariato hanno vengono assistiti famiglie meno abbienti e viene assistita la popolazione in caso di calamità a gratis per un sistema nazionale che ne ottiene un risultato due che in questo avviso c'è l'assegnazione delle postazioni ad estrazione se domani dovesse arrivare un'associazione neonata con un'ambulanza 5 volontari quale tipo di certezza l'AS che quel servizio sia corretto hanno cancellato in questo avviso 20 anni di servizio che le associazioni di volontariato fanno sul territorio quindi cosa chiedete a questo punto chiediamo un'ammidata sospensione di questa manifestazione di interesse di questo cosiddetto bando in modo tale che si possano rivedere le tariffe nel frattempo da parte della regione e finalmente poter aderire a costi sostenibili per la collettività proseguiamo sempre sul messaggero Abruzzo discarica abusiva all'arta al lavoro il procuratore aggiunto Mantini attende entro un mese il risponso delle analisi sui fanghi vicino al depuratore prosegue l'attività di indagine dei carabinieri forestali e l'appalto per la nuova vasca rischia di restare bloccato aperto un fascicolo contro i gnoti le imprese dell'ati erano al corrente della condizione di quel terreno poi processo Ecoem condannate le società le richieste del PM Papalia i nuovi imputati usciranno di scena grazie alla prescrizione proseguiamo siamo sempre sulle pagine di Pescara ma qui più precisamente in provincia arriva il giro penne si tinge di rosa vetrine addobbate strade tirate a lucido tutto pronto per la partenza della tappa la città vestina nel club dei borghi più belli punta a sfruttare la grande visibilità dell'evento e poi l'omaggio alle vittime di Rigopiano Dino sempre a ruota di Scarponi di Michelangelo era appassionato ciclo amatori il 15 maggio la cerimonia commemorativa siamo ora sulle pagine dell'Aquila giunta è l'ora del rimpasto Biondi deve fare presto una crisi da chiudere in fretta per il centrodestra per ricucire le distanze e i veti su assessori e deleghe la nomina degli amministratori delle partecipate Fratelli d'Italia scelte sulle competenze non sulle appartenenze Elisabetta De Blasis lascia Forza Italia per il gruppo misto continuerò a far parte della maggioranza e poi il PD non ci saranno inciuci la città è paralizzata Albano dice clima da fine mandato Palumbo sono i responsabili di benedetto tempo scaduto avanti ancora case Ater chiesti tempi più rapidi l'ERP bisogna fare presto per appaltare i primi 35 milioni entro il 2018 così poi da poter richiedere subito i restanti 45 per la ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale incontro con Pietrucci Proveditorato e l'architetto Perrotti avanti ancora siamo sulla pagina della Marsica la camorra piantava droga in Marsica sgominata associazione a delinquere otto arresti nelle terre del Fucino anziché patate ettari di stupefacente sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro anche una donna aquilana ritenuta complice del gruppo e allora andiamo a vedere il servizio i carabinieri del comando provinciale dell'Aquila hanno arrestato 8 persone per associazione finalizzata alla coltivazione al traffico illecito di sostanze stupefacenti su un'esecuzione di un'ordinanza di custodia catelare emessa dal Tribunale dell'Aquila richiesta dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo l'operazione si ricollega all'ingente sequestro del 28 settembre 2016 al luco dei marzi quando i militari scoprirono una coltivazione di marihuana camuffata da piante di mais allora i carabinieri sottoposero a sequestro alcune migliaia di piante di marihuana per un peso complessivo di circa 6 tonnellate e arrestarono 3 persone da subito fu intrapresa un'attività di indagine coordinata dai pubblici ministeri Stefano Gallo e Roberto Savelli e condotta dalla compagnia di Avezzano e dal nucleo investigativo dell'Aquila i cui comandanti erano presenti in conferenza stampa gli accertiamenti hanno fatto emergere inconfutabili elementi circa la partecipazione degli indagati a un'associazione finalizzata alla coltivazione di marihuana rivelando come l'attività fosse stata organizzata e finanziata da personaggi dell'area campana due dei quali appartenenti a clan camorristici e da una donna invece di luco dei marzi 8 provvedimenti restrittivi in totali eseguiti 3 in carcere e 5 ai domiciliari gli arrestati avevano individuato la zona della Marzica in particolare del Fucino come luogo ideale per delocalizzare la produzione della marihuana attività da lungo tempo svolta nella provincia di Napoli l'indagine ha fatto emergere che un primo tentativo era stato già realizzato nel 2015 al luco dei marzi ma la piantagione non era andata a buon fine e poi ancora nel 2017 l'indagine ha evidenziato anche che due uomini destinatari di misura catellare in carcere svolgevano un ruolo apicale all'interno dell'associazione smantellata provvedendo al finanziamento delle operazioni e al coordinamento delle attività di semina cura e raccolto funzionali poi alla lavorazione e alla successiva commercializzazione dello stupefacente i tre uomini destinatari della misura in carcere si trovano nella casa circondareale di Secondigliano a Napoli e Poggio Reale con l'operazione di oggi riteniamo di aver mandato un segnale chiaro a chi ritiene che l'Abruzzo sia come dicevate voi sia da spartire sia una terra di conquista qui invece il focus e l'attenzione delle forze degli ordini forse ancor più dedicato e ancor più specifico e mira ad evitare proprio che possano attecchire sodalizzi criminali peggio se di stampo mafioso e ora le pagine di Cheti e provincia del messaggero il sindaco attacca i morosi ci devono 60 milioni sul fronte bilancio di primio si scaglia contro l'opposizione e chi non paga le tasse lavoriamo per mettere in sicurezza i conti del comune i tagli sono obbligati poi la rassicurazione vendiamo le farmacie comunali e gli asili andranno ai privati ma nessuno resta senza lavoro poi di spalla scontro tra PM testa resta procuratore e capo nomina regolare ha un profilo eccellente il tar respinge ricorsi di Larana e Monti e poi in basso altri 30 mila euro all'ex DG a del vecchio retribuzione di risultato in fermento anche 40 dipendenti proseguiamo e siamo a pagina 49 spettro fallimento per la Virtus Virtus Lanciano l'udienza decisiva c'è il 25 maggio il tribunale dovrà decidere se accogliere o respingere la richiesta di concordato preventivo la società di calcio accusa debiti per un totale di 10,4 milioni ed ecco nuovi guai a livello penale per i mancati pagamenti IVA amministratore unico che finisce di nuovo a processo per 1,7 milioni non versati a fisco e dipendenti e poi in basso Pilkington piano sociale per gli esuberi e la richiesta più importante emersa nelle tre assemblee che si sono concluse ieri mattina nello stabilimento e ora le pagine di Teramo del messaggero ozono nell'acqua potabile Ruzzo mette al bando il cloro il gas blu è un disinfettante e renderà più pure e gradevole l'acqua disorgente le molecole con tre atomi di ossigeno verranno messe nel potabilizzatore sistema di sonde e nuovo trattamento sono due progetti a cui teniamo molto dice il presidente Antonio Forlini e poi di spalla Gran Sasso un anno senza alcuna sicurezza l'osservatorio denuncia manca ancora una ricostruzione di cosa sia accaduto tra l'otto e il nove maggio di un anno fa e poi a Giulianova la cronaca sposa segreta addio case e risparmi lui ha 86 anni già vedovo ha deciso di sposare la 53enne senza dirlo ai parenti perché loro non volevano quelle nozze spariti dal suo conto 300 mila euro e vendute due case la sorella dell'anziano punta il dito contro la nuova consorte lo sposino maturo non ci sta non sono succube non decide lei e ci stiamo solo godendo la vita e poi ancora sempre a Giulianova il sindaco querela la maga di Maracai chiesto un risarcimento di 30 mila euro galeotta la pubblicazione su facebook di molti post contro Francesco Mastromauro proseguiamo andando a sfogliare le pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo e partiamo da pagina 5 con la banda della marmotta banda incastrata da un brandello di giornale un brandello della gazzetta del mezzogiorno ha indirizzato i carabinieri sulla pista foggiana per il jeep che ha ordinato 10 arresti si tratta di criminali con modalità operative da commando uno è ancora ricercato e poi ancora la cronaca il pastore esce dal carcere e riprende lo stalking telefonate ossessive alla ex un mese dopo la condanna 44 anni di campi arrestato un'altra volta insulti e violenze al nuovo compagno della sua ex fidanzata culminati in aggressione a colpi di bastone pagina 7 Renzo inteso come Renzo di Sabatino verso una proroga alla provincia l'esito delle prossime amministrative sarà determinante anche per il futuro assetto politico in via Milli con la riforma del Rio bocciata dal referendum e l'assenza di governo si attende una proroga per il presidente e poi ancora pagina 8 Teramo perde anche il raduno dei fan di Ivan si terrà a Rimini il cantatore Teramano continua ad essere una opportunità sprecata dalla sua città di origine è il primo raduno del fan club in programma il prossimo 2 giugno a San Leo in provincia di Rimini poi ancora pagina 9 crolla un altro muro nella fatiscente via Stazio scaduti 20 giorni di tempo concessi dal commissario per la messa in sicurezza a Santa Maria a Bitetto poi ancora all'Alessandrini premiati gli assi della chimica edizione record per la selezione regionale dei giochi organizzata dall'istituto superiore Teramano proseguiamo e siamo a pagina 12 poco da festeggiare un anno dopo l'incidente l'osservatorio spegne la prima candelina dall'emergenza idrica e torna ad attaccare sulla sicurezza non è stato possibile instaurare un confronto reale con gli enti competenti perché ci si è trovati di fronte ad un vero e proprio muro di gomma e poi ancora acqua più sana con l'ozono al posto del cloro sarà utilizzato nel potabilizzatore di Montori Alvomano quando soprattutto durante il periodo estivo il sistema avanzato di sonde che all'interno del Gran Sasso misura una serie di parametri garantendo il controllo in tempo reale della qualità delle acque il sistema early warning proseguiamo siamo all'evento che viene illustrato a pagina 14 della città Unitee torna a trasformarsi nell'universo Teramo Comics da venerdì a domenica tre giorni di mostra mercato appuntamenti fumetti proiezioni e gare cosplay la 26esima edizione la manifestazione tra le più longeve d'Italia da tre anni è stata adottata rilanciata dall'Università degli Studi di Teramo e siamo a pagina 16 Alba al voto Piccioni rinuncia al bis attacca il centrodestra parole di fuoco del sindaco uscente contro i partiti mi hanno osteggiata senza dare spiegazioni e andiamo alla pagina dello sport sempre sulla città ecco qui Teramo venerdì la decisione sul Sant'Arcangelo il direttore generale Capaldi la procura federale ha ragione sono moderatamente ottimista il diavolo aspetta e spera attesa per dopo domani la decisione sul caso che riguarda i romagnoli c'è da ribaltare la decisione del tribunale federale nazionale che aveva prosciolto il club romagnolo a tal proposito andiamo ad ascoltare proprio un'intervista rilasciata ieri a TV6 dal direttore generale del Teramo Capaldi direttore la corte si aspetta il giudizio della corte federale sull'impugnamento da parte della procura federale per il proscioglimento in primo grado del Sant'Arcangelo qual è la situazione e se effettivamente si potrà discutere giovedì ma io notizie è chiaro che la procura federale ha impugnato il primo provvedimento e chiede la riformulazione del primo provvedimento perché ne ha tutte le ragioni ne ha bendonde e io sono convinto di questo perché poi alla fine ci sono anche delle ordinanze e sentenze di Cassazione che ci potrebbero aiutare in questo e quindi uso un termine moderatamente ottimista che vada a buon fine questa cosa perché anche perché in caso di nuovo proscioglimento non si creerebbe un po' un precedente particolare ma io credo che quello che ha fatto la procura federale penso anche la Covisoc che gestisce queste situazioni questi controlli verrebbe meno come ufficio quindi sicuramente io mi auguro molto che in seconda istanza la Corte d'Appello federale sia più netta e dica o hanno tutti torto o hanno ragione chi ha torto e chi ha ragione Lasciamo la città diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali siamo sulla Gazzetta dello Sport chiaramente prime pagine monopolizzate dall'evento di questa sera la finale di Coppa Italia all'Olimpico tra Juventus e Milan e la Gazzetta parla di parata finale ovviamente puntando sui due portieri tra chi sta per lasciare come buffone e chi sarà il futuro per la nazionale ovvero Donna Rum poi in basso premiato ieri in Gazzetta i giudizi del maestro Pirlo Max Vincente ringhio da otto mi piacerebbe lavorare in nazionale ha detto Andrea Pirlo ex peraltro di entrambe le squadre siamo sul Corriere dello Sport che titola assi di Coppa tutto esaurito il mondo ci guarda Buffon passa il testimone a Donnarum ringhio carica vale un mondiale e poi sotto la testata Napoli primo colpo arriva a Rui Patrizio svolta nella caccia al nuovo portiere dopo la frenata per l'Eno il club ha già scelto l'erede di Reina e il portoghese dello Sporting Lisbonne poi in basso l'Inter rilancia per Kovacic sul fronte mercato poi Tennis il sogno Nadal Manita rossa e Ferguson si sveglia dal coma quando ritorno a casa dopo l'ictus migliorano le condizioni dell'ex tecnico dello United e poi andiamo su tutto sport con questa apertura doppia in sostanza Juve Kulibakui gioco di parole l'agente del difensore senegalese esce allo scoperto lui in bianco nero è così forte che può giocare ovunque Milan c'è Falcao il centravanti colombiano del Monaco può diventare rosso nero in cambio di Andre Silva e stasera a Roma ore 21 la finale di Coppa Italia ma esplode il mercato torniamo ai quotidiani locali siamo sul centro ovviamente il Pescara in primo piano Pescara il mio paradiso sono le parole del difensore Fiamozzi mi piacerebbe restare l'incubo calcio scommesso cancellato dal Delfino il 23enne in prestito dal Genoa la salvezza battiamo l'ascoli e poi vedremo senza calcio avrei fatto il nutrizionista poi ancora in basso la notizia è arrivata ieri in serata la curva sud ai tifosi dell'ascoli messi in vendita altri 800 biglietti per i sostenitori bianconeri e poi serie C Teramo venerdì il verdetto sul caso Sant'Arcangelo la Corte Federale fissa il dibattimento e in caso di condanna dei romagnoli i biancorossi saranno salvi il direttore generale Capaldi sono ottimista andiamo sul messaggero ecco qui le pagine dello Sport Pescara attenti alla furia di Cosmi l'ex allenatore ora guida l'ascoli la vittoria del Cesena ci ha spiazzato ottenne una salvezza molto complicata strade parallele come quella di Pilon poi invasione di tifosi ascolani Brugman influenzato per la serie D in basso l'Aquila sfuma la trattativa Nucci Candeloro resta alla finestra ma non ci sono stati passi in avanti la situazione resta critica e poi per la serie C il Salvateramo venerdì in aula la Corte Federale d'Appello potrebbe penalizzare il Sant'Arcangelo in attesa anche il Mestre che dovrebbe giocare i playoff lo stesso giorno il DG Capaldi se ci fosse assoluzione a questo punto la Covisoc non serve più poi ancora per il basket Roseto chiama all'Appello ma stoppa i Turbolenti contro Napoli buone chance di salvezza play out arriva una pesante multa e tornando al calcio ma di serie D di spalla leggiamo Menna difensore dell'Avezzano Damiano Menna Avezzano semifinale da vincere il capitano chiama a raccorta i supporter l'Avezzano se la vedrà domenica alle ore 16 al De Marsi con il Pineto in gara secca e il Pineto recupera il bomber Tomassini ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 che tornerà domani ovviamente alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti con le edizioni principali del TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 ringrazio Silvia Gentile in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione e buona giornata con la rassegnappi a l'Avezzano a l'Avezzano l'Avezzano a a a a l'Avezzano a